E' profondo rosso per i mercati delle cripto la peggiore settimana dei mercati da marzo 2020. Che cosa è successo? Un super flash crash per la chiusura del ciclo annuale di Bitcoin che è andato oltre quelle che erano anche le peggiori aspettative perché l'idea generale che Bitcoin facesse una chiusura del ciclo annuale tra i 40 e i 38 come massima esposizione a ribasso così avevamo ipotizzato nei midi precedenti invece è andato anche sotto e è arrivato va bene fino a 30 ma quelli sono sciato ragazzi però sta in questo momento oscillando intorno ai 36.000 dollari. Questa fase ribassista di Bitcoin ha portato con sé tutte le altcoin come sempre fa e nella settimana in questione ragazzi abbiamo assistito ad un flash crash incredibile con ribassi anche importantissimi nell'ottica del 50-60% lo vedremo oggi. Ragazzi allora andiamo a fare il punto della situazione per quanto riguarda il mercato soprattutto per le altcoin noi domenica facciamo un po' la questione legata alle altcoin in generale andiamo a vedere che cosa sta succedendo e soprattutto moltissimi di voi sono stra-impanicati ragazzi allora il problema è sempre lo stesso in una situazione di questo tipo non è possibile prendere delle decisioni in maniera oggettiva ne parliamo in questo video ma prima di andare a fare tutti i nostri diciamo sotterfuggi io vi chiedo di iscrivervi al canale ragazzi come sempre se ancora non l'avete fatto e poi lasciatemi un mi piace va bene? Oggi andiamo a cercare di capire cosa fare con le altcoin qual è l'indicatore da guardare perché abbiamo bisogno di fare chiarezza ragazzi in questo caso e facciamo un'analisi sull'indicatore della dominance per andare a capire che cosa potrebbe star disegnando la dominance di bitcoin in questo momento va bene ragazzi allora poi l'ultima news da darvi è relativa al corso pro con i bonus che sono andati benissimo ragazzi io sono molto contento sempre di quello che è della fiducia che mi date allora ne sono rimasti pochissimi se non sbaglio 3 o 4 quindi credo che finiranno entro domani ragazzi vi lascio il bonus il coupon per avere 100 euro di bonus sul corso pro che è un corso assolutamente di un certo livello ragazzi quindi fatelo solo se avete già le basi altrimenti fate il corso basic nel corso pro imparerete a utilizzare lo stop loss e il take profit per esempio in una situazione del genere proprio nel modulo relativo allo stop loss ragazzi avete tutte le chiavi per capire perché bisognava chiudere alcune posizioni anche per operazioni che avevano un orizzonte temporale medio lungo non lunghissimo ovviamente decennale ma medio lungo moltissime delle coin soprattutto le altcoin sono andate in stop tant'è vero che io ho ancora e th sul quale ho fatto delle operatività che non mi hanno proprio dato una grande soddisfazione perché potevo gestire meglio la questione su e th ma per il resto delle altcoin sono tutto flat perché il mio bot in questione è uscito ragazzi allora nei attraverso la formazione attraverso l'utilizzo di quelle che sono la le tecniche di stop loss potete proteggere anche la vostra posizione da fasi estremamente delicate quindi come sempre ragazzi la formazione migliora tantissimo quello che il nostro trading poi qui abbiamo anche un bonus un modulo bonus dedicato solo alle cripto per quanto riguarda la questione intraday è veramente ragazzi un corso di altissimo profilo soprattutto da un punto di vista anche di mindset non vi aspettate la tecnica miracolosa non è quello ragazzi ma vi apre il cervello e vi fa capire alla perfezione come si sta sui mercati da holder o da trader ragazzi a prescindere dalla vostra figura allora 100 euro come sempre vi lascio il link in descrizione finiscono tra pochissimo andiamo a vedere basta con questa storia ho finito ok andiamo a vedere quelle che sono le altcoin e quello che è successo questa settimana poi ci spostiamo alla dominance facciamo un'analisi perché ho un'idea ho un'idea che secondo me è molto interessante da andare a guardare insieme ragazzi ok allora per quanto riguarda questa questa situazione ragazzi non si salva niente nelle icap questo è un modello relativo alle icap vediamo se riesco a ingrandirlo un pochino così da vedere insieme un po quella che è stata questa situazione ragazzi no va poi non riusciamo a guardare tutti i dati allora le icap sono quelle che hanno 500 milioni di capitalizzazione sopra del 500 milioni di capitalizzazione se le guardiamo intorno a bitcoin questo è il change verso bitcoin adesso vi faccio vedere anche il change verso usd negli ultimi sette giorni ragazzi è stato un disastro proprio perché il change verso usd a nelle coin che queste sono 100 con quindi le top 100 a alta capitalizzazione ci sono anche le stable però in questo caso abbiamo percentuali di ribasso intorno agli usd ragazzi intorno al 60 per cento nelle parti più nei con i token diciamo peggiori tra i quali spicca anche nexo non me lo aspettavo io avevo qualche migliaio di dollari nexo per quanto riguarda il lending pessimo atteggiamento ragazzi anche su questo i mercati ragazzi quando stornano quando danno queste legnate spaventose puliscono il mercato e soprattutto chiariscono una serie di cose tant'è vero che avremo molto di cui discutere su una serie di servizi legati soprattutto alla questione se fai ed è fai ragazzi e dove sono poi i rischi quelli veri che abbiamo visto proprio in questa fase ragazzi ok spiccano anche questi tipi di token vedete come carb che la stessa cosa quindi sono token legati anche alla defy e al lending e poi soprattutto bnb bnb che non si ci aspettava diciamo sicuramente un ribasso di questa levatura 53 per cento verso il dollaro quindi non resiste assolutamente 40 per cento in meno 38 67 contro bitcoin la stessa cosa a catena ragazzi qui abbiamo tutte al coin e con progetti ipervalidi progetti come cake che hanno portato grandi rendimenti negli ultimi negli ultimi mesi polka dotto io so quanto mo abbiamo progetti come uniswap ragazzi yearn finance e chain link eccetera qui ci stanno tutte le top e le top hanno perso il 50 per cento in una settimana a prescindere dalla loro qualità del progetto è vero che poi stavano messe bene stavano diciamo pompavano dall'inizio dell'anno ragazzi però la volatilità di gestire una settimana con meno 50 meno 60 per cento non è per tutti ricordatevi questo momento stampatevelo in testa quando vi vengono le idee del dire io faccio l'holder nei prossimi vent'anni e non avete le spalle larghe perché per essere holder dovete avere le spalle larghe ok ragazzi perché dovete subire questi momenti e non è detto che sia finito qui lo vedremo oggi anzi non credo sia finito qui quindi dovete subire questi momenti e stare sereni e tranquilli quindi trovate un punto di fusione a freddo con questa questione ragazzi come sempre la questione legata agli holder che sono esposti a una volatilità abnorme tant'è vero che anche le mie coin che sono in alto sono quelle che mi danno preoccupazione perché per il resto ragazzi noi siamo tutto in usdt già da 52 mila circa di bitcoin e quindi per noi è ok è una cena gratis questa ma la parte old infatti è quella che soffre di più come sempre è normale che sia così ragazzi non è una cosa sbagliata è normale che sia così allora tutte queste coin hanno ci hanno lasciato il pelo allora c'è qualcuna che si è comportata meglio contro bitcoin nella scorsa settimana avevamo visto alcune coni che potevano performare meglio contro bitcoin hanno retto per due tre giorni possono crollate anche quelle ragazzi ma non tantissimo però sono crollate allora intanto togliamo tutta la prima parte che sono solo stable coin ragazzi come vedete quindi cosa è che guadagna contro bitcoin abbiamo delle delle cosettine tipo tetafuel queste qui ragazzi e questa che sinceramente non so che coin sono abbiamo elium che ha guadagnato addirittura niente quindi diciamo 0,014 settimana contro bitcoin per il resto ragazzi non si salva nulla come sempre il mercato ripete questo suo atteggiamento tipo l'attività ovviamente ci sono delle coin che hanno retto discretamente bene ed era hashgraph per esempio h bar era una di quelle che avevamo proposto la scorsa settimana è riuscita a reggere contro bitcoin ma ovviamente niente sì non aspettavamo diciamo una crollo di questa levatura neanche ethereum ragazzi perché anche eth perde il 21 per cento contro bitcoin questa settimana e va ad invertire va bene allora anche matic ragazzi è inutile che poi vi faccio scorrere questo bagno di sangue perché secondo me è anche estremamente nervoso diciamo ci nervosiamo ci troviamo la domenica va bene allora andiamo a fare il punto la situazione questa è la dominante prima vi faccio vedere la capitalizzazione del mercato la total market cap poi la market cap solo delle altcoin la total market cap ragazzi è arrivata diciamo ad un livello assolutamente importante questo livello di 2 trilioni e ragazzi allora l'avevamo indicato veramente mille anni fa adesso non ricordo e io me lo sono ritrovato perché è sempre lo stesso alla fine ragazzi il mercato ha subito diciamo il suo ribasso proprio su questo livello di resistenza della market cap complessiva ovviamente non faccio trading su questi indicatori perché sono troppo volati dipendono da troppi fattori quindi non ha senso ragazzi però una linea di massima di quello che potrebbe succedere ce lo stanno dicendo anche qui la market cap dell'intero mercato sta facendo la sua struttura ciclica annuale e anche qui vedete che la struttura ciclica annuale chiama una fase di chiusura ciclica dell'anno sia su bitcoin sia sull'intera market cap che dovrebbe avvenire entro la fine del mese di maggio massimo metà del mese di giugno questa più o meno diciamo maggio giugno questa è la struttura anche qui il ribasso è stato importantissimo dell'intero mercato delle altcoin soprattutto è andato a breccare la zona di queste due medie che non sono quelle a 200 ragazzi queste sono le medie di natura diciamo un po più breve però questa zona che ha resistito da aprile del 2020 vedete da aprile del 2020 il mercato si è riportato sopra questa zona adesso la breccata è con questa settimana chiuderà praticamente fra poche ore e definirà il break di questa aria ragazzi poi secondo me diciamo potrebbe subire un ulteriore scossone purtroppo qual è il livello di pullback che il mercato dovrebbe fare quello del precedente massimo storico della bolla del 2017 2018 allora questa zona prevede che tutta quest'aria sia adesso vi sposto questo ragazzi altrimenti non lo riusciamo a vedere ok quest'aria sia un'area di di supporto quindi tutta questa fascia lo mettiamo il nostro rettangolino ragazzi questa zona qui ok dovrebbe essere un'area di supporto come questa era un'area di resistenza il mercato è arrivato sulla parte alta e poi ha stornato questa è un'area di supporto dai mille tra un un trillion diciamo a 852 billion va bene allora questi e sono delle fasce ragazzi che dobbiamo tenere sotto stretta osservazione per quanto riguarda la capitalizzazione come si muove questa capitalizzazione per il 50 per cento si muove con bitcoin per il resto con tutta l'altra parte soprattutto 10 per cento 15 per cento ethereum e poi a catena con bnb e tutto il resto ciò significa che per scendere in questo modo se lo fa la prossima settimana saranno una carneficina anche sulle altcoin la cosa tra le altre cose ragazzi scusate il gioco di parole non mi stupisce perché in realtà c'è molto panico sul mercato vediamo anche anzi vi faccio vedere anche il greer il fear and greed index che porta diciamo una un panico generalizzato è un indice della paura ragazzi eccolo qui e porta un panico generalizzato mi dice appunto 14 quindi quasi diciamo estrema paura in questo momento va bene e questo ci può anche stare ragazzi però in realtà io non ho visto sui mercati così tanta paura tra i non addetti ai lavori ve lo dico chiaramente soprattutto tra quelli che si sono avvicinati da pochissimo tempo la cosa mi ha spaventato perché significa moltissimi dicono adesso risale cioè non ho visto proprio quello che dovremmo vedere in queste fasi c'è una fuga totale da parte dei retail soprattutto chi non ha la formazione non l'ho vista questa cosa in rete è la cosa mi ha spaventato perché non vorrei che il mercato cide ci dia un'altra bastonata nelle prossime settimane fino a metà giugno quindi ragazzi ok stiamo fortemente attenti a questa fase va bene allora questa zona qui ovviamente è una zona di supporto non è lontanissima e ragazzi quindi si tratta di un 40 per cento in questo caso di dell'intera capitalizzazione che magari potrebbe essere un meno 20 di bitcoin e un meno 20 dato da tutto il resto del mercato o meno 30 meno 10 diciamo di bitcoin quindi in sostanza ragazzi ci può stare questa tranquillamente in questa fase soprattutto se bitcoin aumenterà la sua dominanza è da tenere sotto stretta osservazione non ci sono segnali di ripresa in questo momento non c'è niente che lascia presumere che il mercato rimbalzi in maniera nonno da pump and dump ma in maniera definitiva cioè riprenda un trend in questo momento il trend della del mercato dell'ecritto è cambiato da una fase di bull run che avevamo da aprile e maggio dello scorso anno poi in alcuni casi a novembre dipende dall'alt coin ed è cambiato ragazzi è diventato trend ribassista nel breve periodo laterale ribassista nel medio periodo neutrale barra long nel lungo periodo ok quindi in questa fase è semplicemente un respiro del mercato lo so che vediamo cifre abnormi di movimenti ma questi sono mercati che fanno cifre abnormi di movimenti ragazzi quindi preparatevi a questa volatilità non è una fase di inversione del trend di lungo periodo il trend di lungo periodo inverte sotto i minimi di marzo cioè è una cosa che non si può neanche andare a ragionare su queste cose così ragazzi questa è una fase di breve e medio periodo che può essere importante e può durare qualche mesetto questa è la questione poi bisogna capire quando il mercato ritornerà in fase eventuale long se lo fa in maniera consistente allora il mercato può continuare la sua bull run se non lo fa in maniera consistente non riesce più ad avere lo slancio può essere che sia finito qui però queste sono cose ragazzi che le vedremo nei prossimi due mesi non si può dare un'idea generale di queste cose prima perché è un'idea una pandone un'invenzione va bene in questa in questo caso c'è un'ipotesi quella principale che le cripto stiano chiudendo il ciclo annuale per riprendere la fase di bull questa è l'ipotesi principale ragazzi poi se questa cosa è vero o meno noi per saperlo abbiamo bisogno di almeno un mesetto cioè di un primo mensile rialzista cosa che al momento non ce n'è ombra va bene maggio è ancora un mensile ribassista su bitcoin però 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 dulcis in fondo guardiamo questo grafico della dominance perché io questa idea ce l'ho sviluppata anche in base al grafico della dominance ragazzi grafico della domenze che mi metto a daily per farvi vedere intanto quello che sta succedendo allora la dominanza è impennata ovviamente di bitcoin contro le altcoin proprio a causa del crash delle altcoin ma guardate che cosa aveva fatto allora il mercato delle cripto allora un po difficile fare analisi ciclica su queste cose però io tento questa cosa per darvi un po delle risposte delle idee generali ragazzi perché un momento interessante anche secondo me da un punto di vista di istruzione di tanti nuovi investitori che vi siete affacciati a questo mercato magari da qualche mese secondo me dovete fare veramente tesoro di questo momento allora questa fase qui ragazzi vedete questa fase della dominance di bitcoin ha chiuso un ciclo il lo scorso settembre 2020 è la struttura della ciclo del dominante bitcoin è ribassista ragazzi non è rialzista questo significa che le alt tecnicamente dovrebbero essere più forti di bitcoin fino alla fine di questo ciclo qui quindi o questo ciclo è finito adesso oppure questa fase è una parentesi questa è la cosa che vi sto dicendo ragazzi ok non c'è un'altra alternativa quindi chiudere un ciclo così vi faccio vedere sarebbe totalmente fuori da ogni tipo di conteggio quindi dovremmo poi andare a rianalizzare un po tutta la struttura perché questa fase da settembre ad adesso ok questa fase qui è di 262 giorni giorni non rappresenta neanche un ciclo annuale perché sostanzialmente la struttura di bitcoin viaggia con la dominance con maxi cicli di questo tipo poi vi ripeto questi sono analisi ciclica su questi indicatori di indicatori diciamo sono è un po complicato farlo allora dobbiamo essere molto intelligenti a capire un po l'idea generale ragazzi comunque i cicli sono tra 450 e 500 che non ci fate affidamento come un orologio svizzero perché vi sto dicendo che non è proprio affidabilissimo un'analisi ciclica su questo tipo di indicatori per una serie di motivi però può dare un'idea qualitativa non quantitativa qualitativa in generale allora questo tecnicamente dovrebbe essere la metà di questa fase ragazzi la metà quindi di un ciclo ribassista essendo ciclo ribassista significa che questa struttura dovrebbe fare così ragazzi ok e da qui in poi significa che le altcoin dovrebbero riprendere una fase positiva contro bitcoin questo è il discorso ora il problema è e quanto dura questa fase di rimbalzo se arriva fino a qua e purtroppo coincide con quello che ci siamo detti poco fa sul fatto che probabilmente continui a scendere anche nella prossima settimana il mercato e quindi le altcoin soffriranno potrebbero soffrire ma qui entriamo in un'analisi di breve periodo per cui per fare questo tipo di questioni dovete avere tutti gli strumenti e le strategie già predisposte inutile che stiamo qui a ragionare ragazzi sull'emotività e sulla paura perché è come chiudete un'operazione quella rimbalza come la apriamo quella scende non si può fare in questo momento l'analisi operativa le strategie i trading plan li dovete fare prima perché se non avete fatti prima in questo momento ti saluto e ciao perché qualsiasi cosa andata a fare è solo fortuna ve lo dico in maniera chiara perché in mezzo a tutto questo marasma di volatilità è tanto rumore per nulla quindi vi direi tenete quello che avete seguendo le vostre strategie il più possibile questo è fondamentale ma questa è la view che si sposa con la view principale in questo momento cioè attesa per una chiusura del ciclo annuale di bitcoin che consiste proprio in questa impennata della dominance di bitcoin per poi andare a riprendere una fase rialzista dell'intero mercato che andrà a concludere tutta questa struttura poi magari ragazzi non andremo mai a fare un minimo della dominance qui sotto questo magari è possibile che il mercato abbia fatto un minimo è questo ciclo lo chiuda in congestione oppure con una pendenza le lieve no magari può fare una cosa del genere stare qui dentro un po di tempo e poi andare giù magari a fare un doppio minimo ok magari una cosa più semplice di quella che vi ho mostrato io però ciò significa che nel breve potremmo assistere ancora nella prossima settimana ad una fase di difficoltà perché se la dominanza e la dominanza ha invertito il trend di breve come vedete ragazzi si riporta a fare un pullback dal un pull up in questo caso no dal basso verso l'alto dovrebbe andare all'interno di questa zona qui o vicino anche perché questa zona coincide vi faccio vedere anche i fibonacci con il 0.38 e 2 0.5 di fibo tecnicamente la zona migliore sarebbe quest'aria qui cioè tra 56 e 60 per cento la vedo un po distantina se arriva lì è un disastro sui mercati delle altcoin questo non mi piace quindi spero non faccia veramente una cosa del genere perciò un'altra settimana fine mese di maggio e poi le diciamo le prime due di giugno sono difficili preparatevi stiamo sui mercati abbiamo la logica formatevi questi sono periodi in cui i mercati vi spiegano cosa sono i mercati cos'è la volatilità vi spiega che soldi facili non ce n'è da nessuna parte vi spiega che non ci sono pasti gratis se non avete formazioni non gestite importanti somme soprattutto su altcoin perché alcuni sono volatili al di là di questo periodo ragazzi poi vi sparano un meno 60 uno schiaffo in faccia sono complicate quindi dovete essere molto formati se volete investire in altcoin oppure capire quello che sta facendo ragazzi mi dispiace non vi posso dire una cosa più bella di questa però secondo me il grafico della dominance ci dà un'indicazione su quella che l'ipotesi principale per i prossimi mesi voi che ne pensate si fa un'altra gamba rialzo perché questa è la vera domanda ragazzi non il target e le altre cose la vera domanda è abbiamo analizzato bene il mercato da gennaio e l'idea che il mercato non sia ancora arrivato al suo massimo è giusta se abbiamo ragione in questo siamo a posto se non abbiamo ragione in questo dovremmo pagare il prezzo ok ciao a tutti ragazzi e buona domenica